Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, ultima ora clamorosa nella notte dell'11 gennaio 2022 è morto David Sassoli, ex mezzo busto Rai, ex giornalista, volto noto della televisione italiana, era il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli dopo la sua carriera di giornalista aveva avuto una folgorante carriera in politica che era condensata proprio con il prestigioso ruolo di presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli è morto a 65 anni per una disfunzione al sistema immunitario, lo ricorderemo per sempre, come detto sia come grande giornalista Rai che come grande politico e non è un eufemismo definire David Sassoli una vera e propria eccellenza italiana, il secondo rai di Marco Liguori con grande dispiacere fa le più sentite condoglianze alla famiglia di David Sassoli scomparso a 65 anni per una disfunzione al sistema immunitario.